Ciao gente, benvenuta sul mio canale! Questa volta vi mostrerò come fare questo paio di orecchini, o almeno ci proverò. È un video in collaborazione col sito web Art Bijou, troverete tutte le indicazioni qui sotto nell'info box. È un tutorial un po' più complesso rispetto a quello che vi ho lasciato nel video precedente, spero che apprezzerete. Mi scuso già da ora perché con queste roccaie ho fatto veramente fatica a mettere a fuoco, quindi mi scuso in anteprima, spolliciate in su, polliciate in su se il video vi piace, se il tutorial vi piace. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e condividete sui social, insomma aiutatemi a far crescere questo benedetto canale. Grazie, un bacio a tutti e vi lascio la lista dei materiali. Ciao! Vediamo ora il materiale che ci occorrerà per creare i nostri orecchini. Innanzitutto servirà una colla per attaccare uno dei rivoli al castone, io utilizzo in questo caso questa, che è la Super Attack, ma potete utilizzare la colla che preferite. Poi serviranno due rivoli da 14 mm, io sto usando questi qui, utilizzerò questi nel tutorial, che è una colorazione jet, vi faccio vedere il codice, quindi 14 mm, poi sempre due rivoli, in questo caso sempre jet, ma sono da 12, questi andranno appunto incollati nei castoni, che vi farò vedere tra poco, e questo è il codice. Poi serviranno appunto due castoni per rivoli da 12, che sono questi, fatti in questo modo, davanti sono così, hanno due occhielli, come vedete, e questo qui è il retro. Non è obbligatorio, vi faccio vedere il codice, non è obbligatorio al fine degli orecchini, quindi, insomma, possiamo anche non utilizzare questi componenti, attaccare direttamente la monachella, come vedrete poi in seguito. Poi serviranno delle roccaie da 11, io utilizzo questa colorazione qua, e questo qui è il codice, sono comunque delle roccaie 11.0 della Miyuki. Poi utilizzerò delle perlineane, i comb, che sono queste, a base esagonale con due fori, vi lascio il codice, e di queste ne occorreranno 42. Poi serviranno 32 Bikono Swarovski da 4 mm, io utilizzo questa colorazione qui, e questo è il codice. Poi serviranno due monachelle, due ganci per orecchini, io utilizzerò queste qui, color oro, e questo qui è il codice. Poi vi serviranno due nel linee di congiunzione, e ovviamente l'attrezzatura, le pinze, l'ago, e come filo io utilizzerò un file line da 0,15, ma potrete utilizzare anche quello da 0,20. Quindi ho detto tutto, vi lascio al tutorial. La prima cosa che andremo a fare, così poi ci potremo dedicare direttamente la tessitura dell'orecchino, sarà quella di incollare il nostro rivoli da 12 mm all'interno del castone. Io metto poca colla, proprio qualche goccina, e dopo aver aspettato qualche secondo, inserisco il mio rivoli, e metto da parte lasciando che si asciughi. Come primo passaggio dovremo infilare la sequenza che vedete inquadrata in questo momento, quindi sono praticamente in alternanza 6 o nei comba alternate appunto con 6 Bicono Swarovski, quindi in questo modo. Dopodiché, una volta infilati, facciamo un paio di nodi per stringere la lavorazione a cerchio, quindi uno, e due, tirando bene il filo, per ottenere praticamente questa cosa qua. Adesso, con l'ago, passiamo dentro qualche perlina, per non andare a lavorare direttamente sul nodo, passiamo dentro qualche perlina, e ne usciamo da da una qualsiasi delle eone i comb, quindi io salterò un paio, e quindi eccomi qua, sto uscendo, ops, sto scendo da questa one i comb, ora, quello che dovremo fare sarà, inserire sul nostro ago 5, rocaille, 11.0, le chiamerò solo rocaille, perché non utilizzeremo altre misure, quindi, ne inserisco 5, e saltando il bicono, entro direttamente, scusate, saltando il bicono, che è questo, entro direttamente nella one i comb, subito dopo, passando sempre dallo stesso foro, quello dove abbiamo fatto l'infilata, quindi, dopo aver messo le perline sul lago, entro qui nella one i comb, e tiro il filo, si formerà questo, questo cappietto, insomma, che noi dovremo spingere in avanti, verso il centro della lavorazione, lo sistemiamo così con le dita, ripetiamo l'operazione, quindi stiamo uscendo da qua, inseriamo nuovamente 5, rocaille, da 11, sul nostro ago, ed entriamo, in questa one i comb, precedentemente, quindi entro qua, e tiro, e abbiamo ottenuto quest'altro archetto, adesso continuiamo a fare la stessa cosa, fino al termine della lavorazione, quindi faremo ancora, 4 archetti, uno, su ciascun bicono, ci vediamo, non appena eseguita questa operazione, questo qui sarà il risultato, che avremo ottenuto, scusate, ovvero appunto, un archetto davanti ad ogni bicono, vedete, io ora sono uscita col mio ago, da la terza rocaille, di uno dei, degli archetti, cosa farò, inserirò sul mio ago, una rocaille, e entrerò, in questa rocaille qui, quindi, all'interno, della punta, dell'archetto subito dopo, quindi nella terza, così, e tiro, e tiro, ripeto l'operazione, quindi inserisco, una rocaille, sul mio ago, e dentro, nella punta, dell'archetto, subito dopo, e tiro il filo, in modo da, praticamente, in questo modo, si andranno a congiungere, pian piano, tutti gli archetti, che abbiamo fatto, sul retro, quindi sei archetti, inserisco ancora una rocaille, sul mio ago, ed entro, nella punta, dell'archetto, subito dopo, qui, e tiro il filo, scusate se quando tiro il filo, esco dall'inquadratura, ma, non, non riesco, altrimenti, ecco, ancora, mi tiro una rocaille, ed entro, nella punta, dell'archetto, subito dopo, infilo, un'altra rocaille, ed entro, sempre, nella mia punta, ecco qui, manca l'ultima, quindi, inserisco l'ultima rocaille, che è la sesta, e dentro, e dentro, qui, nella punta, del primo archetto, da dove, stavamo uscendo, e tiro, il filo, molto bene, questo qui, è il risultato, che avremo ottenuto, adesso, con l'ago, ripassiamo, in tutto questo giro, che abbiamo fatto, stringendo così, bene, bene, tutta, cioè, consolidando, questo cerchietto, che abbiamo fatto, dopodiché, portiamoci ad uscire, da, un foro alto, di una, delle aneicomb, quindi, passiamo attraverso le perline, entriamo nel primo foro, e poi usciamo, di qua, ecco fatto, io, ho, sono passata nuovamente, all'interno di queste perline, poi passando, attraverso la lavorazione, sto uscendo, dal foro alto, di una, aneicomb, adesso, praticamente, noi dobbiamo, infilare sul nostro ago, un bicono, una, aneicomb, e, un bicono, ok, e, dobbiamo, entrare, in questa, aneicomb qua, ovvero, saltiamo, bicono, aneicomb, bicono, scusate, e entriamo in questa, aneicomb qua, ok, e tiriamo il filo, sono le ore dieci, grazie, cioè, scusate, ma, devo ancora sistemare, ho preso, un mac nuovo, e, c'è il coso automatico, che dice che ore sono, allora, come vedete, appunto, sto uscendo, da questa, dove sono appena entrata, perché, a questa, a questa lavorazione, esagonale, adesso, mi diventerà triangolare, quindi, inserisco ancora, un bicono, una aneicomb, un bicono, e, salterò, quindi, nuovamente, questo bicono, qui, questa aneicomb, e questo bicono, qui, ed entrerò, in questa, ok, e tiro il filo, ora, ancora una volta, inseriremo, un bicono, una aneicomb, un bicono, e, entreremo, in questa, una aneicomb, cioè, la prima, da dove siamo usciti, saltando, questa e questa, quindi, entro qui, e tiro il filo, ed ecco qua, come vedrete, mi è diventato, praticamente, una lavorazione triangolare, e questa non sarà altro, poi, che la sede, del nostro, rivoli da 14 mm, quindi, adesso, inseriremo, all'interno, di questo, di questa lavorazione, il nostro rivoli, che, in questo caso, essendo jet, non ha, praticamente, il foil, da una parte, uguale, quindi, potete inserirlo, dalla parte che preferite, e questa, sarà, appunto, una parte, dell'incastonatura, del nostro rivoli, a questo punto, usciamo, con l'ago, dal bicono, che si trova, subito, prima di una, nei comb, non di queste, che abbiamo, sui angoli, che sono libere, ma, di quelle, che ci sono, al centro, qui, tra un bicono, e l'altro, uscendo, appunto, da, magari, togliamo il rivoli, lo inseriamo dopo, così, non rischia di cadere, allora, sto uscendo, da questo, bicono, qui, inserisco, sul mio ago, 5, rocai, 11, ok, e dentro, nel bicono, subito dopo, e anche, nella, o nei comb, subito dopo, tiro il filo, e, appunto, le, 5 rocai, mi si sono posizionate qui, passo, anche, nel bicono, dopo, perché, devo andare a ripetere, la stessa operazione, su tutti e tre, i lati della lavorazione, quindi, sto uscendo, da questo bicono, inserisco, 5 rocai, 11, e dentro, nel bicono, subito dopo, tirando il filo, bene, passo, passo, anche, nella, o nei comb, subito dopo, e nel bicono, subito dopo, per ripetere, l'operazione, un'ultima volta, in un'ultima volta, quindi, uscendo da, questo bicono, qui, inserisco, 5 rocai, 11, e, dentro, nel bicono, subito dopo, nella onicomb, subito dopo, e nel bicono, subito dopo, ecco, 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 praticamente, su ogni, su, su, una delle onicomb, che abbiamo, sul lato, di questo triangolo, abbiamo inserito, una serie di 5, rocai, da 11, usciamo, con l'ago, dalla terza rocai, di una delle serie da 5, che abbiamo appena inserito, come in questo caso, vedete, io sto uscendo, da questa, inserisco, quindi, il mio rigoli, nuovo all'interno, del, del cestino, che si è, chiamiamolo, cestino, che si è venuto a, a creare, e, inseriamo, sul nostro ago, una sequenza, formata da, due rocai, da 11, un bicono, due rocai, da 11, da 11, ok, allora, siccome io, sto uscendo, come abbiamo visto prima, dalla terza, rocai, qui, andrò, dopo aver fatto, la mia infilata, a infilarmi, nella terza, rocai, dell'archetto, da 5, che abbiamo fatto, su questo lato, in questo modo, e tiriamo il filo, ok, ripetiamo, inserendo, due rocai, un bicono, mamma mia, che parto cesareo, questo, questo ritiro, rifaccio, rifaccio la mia infilata, e dentro, nel, terza rocai, di quest'altro archetto, e tiro il filo, bene, adesso, dopo poi, si stringerà tutto per bene, anche queste, ho nei comb, sui lati sventolanti, vedrete che le fermeremo, ancora una volta, due rocai, un bicono, e due rocai, e dentro, quindi, qui nella, terza, rocai, dell'archetto, da dove siamo partiti, praticamente, e tiro il filo, e avremo ottenuto, questo risultato qui, adesso, praticamente, dovremo ripassare, all'interno dell'ultimo giro, per consolidare bene, la lavorazione, ecco qua, questo qui sarà il risultato, questo è il retro, e questo è il fronte, ora, dobbiamo andare, a fare questa operazione, usciamo, passando tra le perline, da, il foro alto, di una delle, ane, i comb, io sto uscendo da qui, inserisco, sul mio ago, tre rocai da 11, e, mi infilo, in quella subito sotto, e tiro, ripeto, inserendo ancora, tre rocai da 11, e dentro, in questo modo, vado a bloccare, le prime due, in questo modo, ora, passo, attraverso, le perline, della lavorazione, vado a fare, la stessa cosa, unisco questi due, passo ancora, tra le perline, unisco anche questi due, ci vediamo, alla fine del giro, ecco qua, questo sarà il risultato, dopo che avremo, praticamente collegato, con tre rocai, le, i gruppi, i due, one, come, one, come, che ci sono su ogni lato, io sto uscendo, adesso da quest'ultimo, mi rendo conto, che è un po', è un po' complicato da vedere, forse se metto così, queste sono tre, rocai, che ho messo sul lato, per congiungere due, one, come, sto uscendo, dalla seconda, vedete, non so se si vede, ci sono tre rocai, una, due, tre, sto uscendo dalla seconda, infilo sul mio ago, cinque, rocai da undici, ok, e, entro, nella seconda, e nella terza rocai, e tiro il filo, a questo punto, mi si creerà, praticamente, il cappietto, dove poi andrò a inserire, il gancio, ora, passando tra le perline, della lavorazione, dovremo, praticamente, trovarci ad uscire, da questo bicono qua, facciamo questo passaggio, e ci vediamo, per continuare l'orecchino, ecco, sto uscendo, da, questo bicono qua, cosa voglio fare, voglio bloccare, il bicono, alla one, come che hanno subito dietro, quindi, inserisco, sul mio ago, due, rocai, due rocai, due rocai, e mi vado ad infilare, subito, in questo foro, della one comb, così, e tiro il filo, ok, quindi, si sono posizionate, queste due, infilo ancora, due rocai, rientro nel bicono, e tiro il filo, ecco fatto, come vedete, ho messo queste due, queste due, bloccandole con questa, ora passiamo, all'interno, delle perline, fino a uscire, da questo bicono qui, e ripetere la stessa cosa, ripassare anche, in questo bicono qui, e ripetere la stessa cosa, ci vediamo alla fine del giro, e questo sarà appunto, il risultato, che avremo, raggiunto, dopo aver collegato, aia, dopo aver collegato, appunto, il bicono, con le due roccaie, insieme alla, nei comb, allora, qua su, in alto, il gancio, dove appendere, poi la monachella, quindi, praticamente, vado nella parte bassa, dell'orecchino, ed esco, cioè, passando tra le perline, esco da, le tre roccaie, che abbiamo subito, qua sotto, quindi, sto uscendo, proprio da tutte e tre, mannaggia a me, che ho scelto queste roccaie, non si vede niente, ecco, forse così si capisce, a questo punto, dovremo lavorare, la parte bassa, dell'orecchino, no, quindi, uscendo, inserirò, una, ane, e a ciao, come le chiamo, steppelline, una onecomb, una roccaie da 11, una onecomb, una roccaie da 11, e una onecomb, quindi, la sequenza, è questa, ok, quindi, andiamo verso, l'alto, cioè, sì, insomma, da una parte, la parte col cappietto, così non ci confondiamo, e lavoriamo sotto, dopo aver inserito, questa sequenza, entro, in tutte e tre, le roccaie, dell'altro lato, ok, e tiro il filo, mi scuso veramente con voi, per questo tipo di perline, perché mi rendo conto, che si farà fatica, ok, quindi ho posizionato, queste tre, ripeto, lo stesso infilaggio, inserendo, una onecomb, una roccaie, una onecomb, una roccaie, e una onecomb, e, entro, collago, in queste tre, cioè le prime tre perline, dove stavamo uscendo, ok, e tiro il filo, quindi, il mio orecchino, sarà, in questa maniera qui, e qua sotto, avremo, questa due serie, di onecomb aperte, collago, entriamo, in questa, o nei comb qui, attraverso il suo foro alto, e usciamo, entriamo nel foro basso, dalla parte opposta, e ci ritroviamo fuori dal lavoro, ok, inseriamo sul nostro ago, tre roccaie da 11, e, entriamo, nella onecomb, sul lato opposto, in modo da, fissarle assieme, poi, prendiamo una onecomb, e la infiliamo tra, una onecomb e l'altra, praticamente, stiamo costruendo due lati, e man mano li uniamo insieme, a scalare, a punta, un'altra onecomb, secondo me, non ci capirete niente, in questo tutorial, mi dispiace, e inserisco, ok, ora, ci troviamo in questo punto qui, inseriamo tre roccaie da 11, ed entriamo, in questa onecomb qui, e tiriamo il filo, in modo che, avremmo, unito da una parte, unito dall'altra, e qui, in un lato ne abbiamo già due, adesso inseriremo, le speculari, anche su quest'altro lato, quindi, inseriamo, sul nostro ago, una onecomb, entriamo, in questa qui, subito dopo, e tiriamo il filo, inseriamo una onecomb, entreremo, in questa qua, subito dopo, tirando il filo, ok, vi faccio vedere davanti, quindi ci troveremo, in questo modo, adesso, con l'ago, passiamo, dentro, il foro di questa onecomb, e scendiamo, nella, unico subito sotto, sotto, quindi, dobbiamo passare, tra le perline, e uscire, praticamente, da questa, ok, a questo punto, entriamo, con l'ago, scarico da perline, qui, in questa onecomb, e tiriamo il filo, inseriamo, una onecomb, ed entriamo, in questa, subito di fianco, e tiriamo il filo, inseriamo, inseriamo, tre rocaille, ed entriamo, in questa, onecomb, qui, tirando il filo, inseriamo, l'ultima, onecomb, ed entriamo, in questa, onecomb, qui, e tiriamo il filo, a questo punto, inseriamo, tre rocaille da 11, entriamo, in questa, onecomb, qui, e tiriamo il filo, ora, con l'ago, usciamo, dal foro basso, di questa, tiriamo il filo, inseriamo, tre rocaille, sull'ago, ed entriamo, in questa, subito di fianco, e tiriamo il filo, ancora, tre rocaille, sul nostro ago, e tiriamo il filo, e tiriamo il filo, fino ad ottenere, questo risultato, adesso, andremo a decorare, la puntina, sotto l'orecchino, in questo modo, usciamo, dalla, uscite con un po', di immaginazione, perché purtroppo, non userò mai più, queste rocaille, per un tutorial, non si vede un cavolo, uscite da, la seconda, di tre, insomma, delle rocaille, che si trovano, qui sotto, e inserite, ma niente, non riesce proprio, a mettere a fuoco, comunque, queste rocaille, incredibile, inserite, tre rocaille, un bicono, tre rocaille, in questo modo, adesso, rientriamo, con l'ago, dentro, al, bicono, solo dentro al bicono, e tiriamo, fino a ottenere, questo risultato qua, infiliamo ancora, tre rocaille, sul nostro ago, e, entriamo, nelle, due rocaille, dall'altra parte, ops, sto entrando anche in quelle sbagliate, non ce la posso fare, ecco, qua, della punta, praticamente, e tiriamo il filo, ed ecco fatto, avremo creato, anche questa, puntina sotto, ora, non ci resterà, che passare, tra le perline, della lavorazione, fare un paio, di nodi strette, e tagliare il filo, eccoci qua, vi ricordate, che a inizio del video, avevamo incollato, questo rivoli da 12, nel castone, ora io andrò ad applicarlo all'orecchino, e poi applicherò la monachella, io vi faccio vedere appunto, come applico, la, questo castone, praticamente, con l'utilizzo di un anellino, come questo, è un semplicissimo anellino, lo inserisco all'interno, del cappietto, che ho fatto qua in alto, con le rocaille, poi, inserisco, il mio castone, anche all'interno, dell'anellino, e con, l'aiuto di un'altra pinza, chiudo il tutto, ok, quindi, a questo punto, non mi rimarrà, che, andare ad applicare, il gancio, vado a torcere leggermente, quella pinza verso l'esterno, mi raccomando, non aprite mai, come per gli anellini, in questo modo, cioè, piegandolo, su se stesso, ma sempre torcendo, per non rovinare, appunto, il gancio, e, vado, ad inserire, l'altra parte, e chiudo, con le pinze, sono le ore undici, ecco, l'orecchino è terminato, grazie per aver seguito il tutorial, scusate per le varie vicissitudini, io vi do appuntamento al prossimo video, a presto, ciao, ciao,